Il prossimo 10 ottobre Alpette ospiterà una giornata importante con l'inaugurazione della nuova biblioteca e il ricordo di tre partigiani Berlanda, Pecchioli e Pugno. Sì, in occasione dell'inaugurazione della biblioteca dove questi tre personaggi tramite le loro famiglie ci hanno donato molti libri abbiamo pensato di dedicare una giornata di riflessione, di presentazione grazie anche alla collaborazione dei familiari, una giornata in cui ci confronteremo, in cui ci faremo raccontare da una parte di studiosi e dall'altra parte dalla viva voce dei figli di loro cosa hanno vissuto in quei periodi tenendo conto che soprattutto Berlanda e Pecchioli hanno combattuto prima in Val d'Aosta scendendo dalla Svizzera a cui è dedicato anche un disegno vicino al cimitero con la mano della pace e quindi ci racconteranno le esperienze, racconteremo poi la storia anche di Pugno che è una storia differente in quanto lui ha combattuto principalmente la città di Torino ma tutte e tre poi sono collegate anche con le istituzioni essendo stati chi consigliere comunale, chi provinciale e chi deputato e quindi cerchiamo di mettere insieme queste esperienze per fare poi collezione con la biblioteca e poter fare in futuro anche nuovi appuntamenti di approfondimento.